Ah, Jay, siamo anche senza skill, tu, dunca. Sto contento. Bene. Perché stiamo camminando? No, secondo me siamo morti direttamente, è diverso. Che fate, la storia? Sì. Ah, sì, siamo arrivati qui quando è morta Aurin. Ma tanto si sapeva che moriva Nars, tanto muoiono tutti, dai. No, mi prego, dai, basta. Già sono ancora dispiaciuta ancora perire, nella linea in l'altra. Ci sono i piselli! No. Ah, vabbè, se c'è sul tete, allora. Tete. Eccolo. Tete. Spicca con il tuo amico. Bello Ritlock, bello di papà. Povera Aurin, com'è morta male. Cazzo fai di sicca la testa, pure te. Ma chi? Tu, così. Staremo proprio un po' sulle tette poi, guardate. Che è vero! Che... L'Aoreine di noi. Chi... Ci... 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 C'è vero? Noi non sono ancora così Aaaaaah Brand Eh... Beh, allora? Non lo so, qui adesso niente Sono... Kate Kate cosa sta diventando? Se state zetti magari Ecco Ecco Che bisogna fare ragazzi? Devi usare quella skill Contro chi però? Ma ce l'hai pure tu Luca? No Ma perché l'ho stata io e la storia è mia vuoi duro e pensi che la dovete ripare Cosa è questo? Cosa stai facendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta brillando? Aiuto Nooo No no ma è stato una flashbang Allora te faccio fritti eh, così impari Stai fermo Stai fermo Ma dove stava il dio? Nooo 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 Non funziona Nooo 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 Oh è la finisce da di... Ahahahah Chi parla? E da un po' che sta a parlare E da un po' che sta a parlare Che bellina che è Eh? Da poco che sono pronto fra te E da un po' che è Ma... L'ho accettato Siamo sopra Aurin Bello di Babagmio Draco preferito Ma non ci vede? Luca Luca sto drago è micidiale eh Gli manca un culo di video come si vuol dire Ah Attenzione a quello che fate eh Ah Ora abbiamo le skill Ok La due cura? Restore in game Io ancora non ce l'ho attima Che c'è solo uno Chi è? Quale dragone? Sii calco, è carino Gli faccio un calco Che bello con i tasti più belli Che bello con i tasti più belli WASD Se vola aiuto Aiuto Chi mi fa cliccare sul tavolo? Perché sei stronzo? Attenzione alle schiocche eh Ma hanno usato Ma hanno usato di nuovo la Flashbanger Ma che è tutta così la scusate Perché siamo già Gli facciamo capitolini fighiti Come non ho capito ragazzi Che va a a a a a a a Ma sto mondo è ma che ha scoraggiato qualcuno che è così il mondo Ho Ho linto cazzo Vai però Ma è lei che sta volando, eh? Sì Vai, quella è un'idea eugenica Un'idea eugenica Vai Oh no, dove sta Doom? Andiamo Ok, la 2 ha caricato Ok, Aurin Non so, se lo avete come skill di curativo e roba del genere Sì, noi sì C'è un achievement, eh? E io ho la skill di lei, di Aurin Eh, anche noi Ok, mi serve per poter giurvi dei colpi di lui Spaccate almeno 10 dei suoi cristalli, così fai te l'achievement Ce la fai, Luca? Luca Quelli che ha sulle ali quando dovete colpirlo Colpitele, colpitele, lo stiamo coltando giù, eh? Io lo sto colpito Tu fidati, premi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Premi 1, come su G1 quando ti fa un salemo Ma che brutto, però sembra un tacchino Ma chi? Sì C'è sotto zampe molto brutto Ma che facciamo? Si girava bruttissimo Ma sembra tipo peluche Non c'è l'abbiamo fatto danni Sta fumando, fa male fumare Sì, dopo un mese la palla entra in campo Ma no, dai Aspettate un pochino Vai, 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 non sopportare Dai Dai Sì 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 Vai Sì Sì Allora Poi c'è il dirigibile Zeppelin Dai Dai Aiuto Sull'altra ala Però non mi faccio capire una favola ok, non più skill scusate, non voglio vedere il video skip oh, she's a drago ma com'è povera, è una merda il più bello è quello di chi? darman darman ma ancora la giamma non si è vista e sciatti non lo so cioè se sei morto così è andata all'impica proprio è andata a te ma non sa farla una freer grazie dragon eh, già è spoli c'è il naso, c'è caduta del draff dragon post eh, la madonna morite Morite, morite Ah, provi una mappa in mezzo al mare Moro Ok